Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità del Cagliari. Il Cagliari, club italiano di calcio, sta attraversando un periodo frenetico sul mercato delle trasferimenti, con crescenti voci riguardo alla possibile partenza del difensore Elio Capradossi. Il direttore sportivo del club, Bonato, è impegnato non solo nella ricerca di rinforzi per la squadra, ma anche nella gestione delle uscite. Negli ultimi giorni, una notizia ha guadagnato risonanza, la possibile trasferimento di Elio Capradossi all'Ascoli. Il giovane difensore, che è stato recentemente convocato per il campionato dei cadetti, è oggetto di desiderio da parte del club avversario. Il giornalista Gianluca Di Marzio, noto per le sue fonti affidabili nel mondo del calcio, ha portato alla luce l'informazione secondo cui l'Ascoli starebbe mettendo pressione al Cagliari per assicurarsi i servizi dell'ex difensore della Roma. Ciao tifoso rosso-blu, pensi che Capradossi debba essere impiegato da Ranieri? Lascia la tua opinione nei commenti, poiché è molto importante per il Cagliari.